Con i miei amici di Pretattica, con Jacopo Gornati e Alessio Tenan, come sempre nel giorno delle partite dobbiamo capire come vogliono giocarla i due allenatori e che allenatori, perché da una parte c'è Tiago Motta, dall'altra c'è Antonio Conte, una vecchia conoscenza in casa a Juventus e dunque ragazzi mi aspetto obiettivamente un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. Allo Stadium sarà un big match, credo siate d'accordo con me su questo. Sì, sarà il primo vero test per Tiago Motta e la sua Juventus e nello stesso tempo sarà il primo vero test per Conte a Napoli. È una partita veramente affascinante per tanti aspetti, ci sono tanti aspetti che rendono questa partita una partita super interessante da guardare anche per chi magari non è coinvolto emotivamente dalla partita, è una partita secondo me bella da guardare. Ale, prima di andare da Jacopo che ci farà scoprire un po' più il Napoli di Antonio Conte, sei teso? Diciamo che questa è la prima partita che può decidere qualcosa secondo me, siamo ancora all'inizio però possiamo mettere qualche punto importante per iniziare veramente il campionato secondo me. Jacopo facci scoprire un po' questo Napoli. Allora, Napoli che anche si sta scoprendo da solo, nel senso che fino ad ora tutti i nuovi acquisti, gli acquisti arrivati negli ultimi giorni di mercato non hanno trovato tantissimo spazio, quindi ci rifacciamo a quello che abbiamo visto fino ad ora, quindi un 3-4-2-1 che poi in fase di non possesso, e partiamo da quella, diventa un 5-4-1. fase di non possesso che ha ancora qualche problema perché il centrocampo A2, formato da Anghissa e Lobotka, non essendo abituato ad essere A2 ed essendo abituato a giocare piuttosto con un vertice basso e due mezzali, deve ancora capire come riuscire a coprire il campo alle spalle della linea. In questo caso vediamo il 5-4-1 come si presenta normalmente, dopodiché nella stessa azione andiamo a guardare nello specifico quel giocatore del Cagliari che va a posizionarsi alle spalle della linea dei due centrocampisti del Napoli. Questa cosa qui è una cosa che la Juve dovrà fare, ma è importante che quel giocatore non sia già lì ma che ce lo faccia arrivare, perché se ce lo fa arrivare il Napoli fa fatica a leggere il movimento, mentre invece se fosse già lì il Napoli potrebbe tranquillamente organizzarsi di conseguenza. Quindi questa situazione qui, che poi si ripropone anche in un'altra azione, un po' più tardi, da parte del Cagliari, è un po', secondo me, quella che sarà la chiave tattica per andare a scardinare questo tipo di difesa. Contando, secondo me, in tutto ciò Ramani è il difensore che sta facendo più fatica a rompere la linea e quindi staccarsi dal resto dei suoi compagni di reparto per aggredire in avanti il giocatore. Oltretutto, da questa immagine si vede anche una particolare zona, che è quella segnalata in verde, in cui la Juve potrebbe far girare il pallone, quindi non andare magari subito alla verticalizzazione, ma cercare di raggiungere questo spazio qui, in modo tale da poi fare un 3 contro 2 con il giocatore che ci sarà qui, la punta e un esterno, il quinto, dipende da poi come attaccherà la Juventus. Dal punto di vista del possesso palla, in questo momento è un Napoli totalmente dipendente da Lukaku. Io ho contato, nella partita contro il Cagliari, solo nel primo tempo Lukaku ha ricevuto 34 verticalizzazioni e sono verticalizzazioni di questo tipo. Io ne ho messe giusto due o tre varianti. Per esempio, con palla tra i piedi di Meret, vediamo i due centrocampisti che si abbassano proprio a formare questo tipo di corridoio, formando uno spazio, questo qui in giallo, in modo tale che Lukaku riesca a ricevere la verticalizzazione e poi sempre uno dei due esterni, quindi Varaschelia o Politano, viene a ricevere lo scarico, mentre l'altro parte in profondità. E questa è una cosa che Conte ricerca in maniera continuativa tutta la partita, tant'è che poi, durante la partita contro il Cagliari, ha chiesto a Lukaku di alternare dei movimenti ad attaccare la profondità e dei movimenti a venire incontro. L'attacco della profondità che però non viene ancora fatto in maniera efficiente. Poi, chiaramente, una volta che il giocatore riceve lo scarico, ci si può sbizzarrire sulle varie opzioni di sviluppo. Un altro tipo di sviluppo, quindi con la squadra un pochino più alta, potrebbe essere, per esempio, la verticalizzazione da parte di Buongiorno o comunque del Braccetto, quindi anche da Di Lorenzo, oppure ancora una combinazione veloce, centrale, in cui partecipa anche attivamente uno dei due mediani, o Anghissaolo o Botka, ma l'obiettivo è sempre quello, ossia dare la palla a Lukaku. Ultimo, appunto, è l'interscambio che ogni tanto si verifica tra Spinazzola e Kvaraschelia da una parte e Politano e Mazzocchi dall'altra e questo permette chiaramente al Napoli di avere l'opzione anche di Kvaraschelia che riceve in zone in cui lui è molto più a suo agio e di mandare dentro Spinazzola ad attaccare la profondità. Questo è un po' quello che ho visto io del Napoli. Ale, alla luce di quello che ci ha fatto vedere Jacopo, secondo te la Juve cambierà qualcosa dalla formazione che è scesa in campo qualche giorno fa contro il PSV in Champions League e che obiettivamente ha fatto bene? Secondo me no. Rientra il discorso del miniciclo, anche se in questo caso abbiamo più partite, però io in Tiago Motta vedo una sensazione di continuità della squadra. secondo me sta cercando un 11, diciamo, fisso. Quindi secondo me giocherà la stessa formazione che ha giocato contro il PSV, incluso McKennie titolare. Poi vedremo perché secondo me McKennie può giocare anche questa partita, perché secondo me c'è un motivo abbastanza chiaro per cui lui lo preferisce a Douglas Lewis. Senti, ci fai vedere quello che ha preparato? Certo, allora andiamo a vedere, diciamo, una brevissima analisi tra Empoli e PSV. La formazione è uguale, soltanto che nella prima ha giocato Douglas Lewis, una partita, diciamo, un po' a fasi alterne. Ecco, lui è un giocatore di cilindrata particolare, cosa vuol dire? Che è un giocatore un po' strano da percepire, non ha un ritmo costante, è un giocatore che ha un ritmo tutto suo e bisogna saperlo integrare nella squadra. Bisogna adattarsi a lui, ecco, non è un giocatore che è molto disciplinato in questo. E il problema, secondo me, che si è capito, almeno che io ho ricevuto da Thiago che ci dà dei segnali, è che Douglas Lewis non fa bene la fase di pressing quando siamo in avanti. Qui vediamo 3 più 2 dell'Empoli, è la stessa struttura che userà il Napoli. Vediamo Douglas Lewis con Cop Miners che vanno incontro ai mediani e Ildiz, Niko e Vlaovic sui tre difensori. Douglas questo lavoro lo fa, però diciamo che ha un po' i suoi tempi, non è disciplinato nel lavoro, si prende delle pause, non è concentrato sul lavoro al massimo. Si vede che lui preferirebbe più un lavoro, più di copertura, diciamo, più di lettura. Non è un giocatore che gli piace molto aggredire in questa zona di campo. Fase di possesso, come sempre, è il 3 più 2 con Cambiasso che si sposta da terzino sinistro e diventa il secondo mediano con Locatelli. In questa partita abbiamo visto Douglas a sinistra e Cop Miners a destra, quindi il movimento delle mezzali che si allargano molto. Abbiamo visto in passato questo movimento, detto più volte, che è un movimento che fa fare Tiago Motta praticamente indipendentemente dal giocatore che c'è. Questa cosa non ha funzionato molto, si è svuotato molto e la zona di rifinitura e Vlaovic è stato servito poco, anche se ha sprecato qualche occasione. Cosa cambia dal PSV? Cambia che gioca McKennie e non Douglas Lewis. E in questo caso Cop Miners gioca a sinistra e non a destra. No, però, perdonami, scusa. Cosa cambia dall'Empoli al PSV? Giusto? Perché col PSV ha giocato McKennie. Sì, cosa cambia? Giusto. Cambia che Cop Miners gioca a sinistra, cioè si forma questa catena di Ildiz, Cambiasso e Cop Miners, che è stata la catena che ha svoltato la partita, possiamo dirlo. Il gol che fa Ildiz è una serie di movimenti, cioè Cop Miners che porta via il difensore, c'è Cambiasso che fa la sovrapposizione. diciamo che mettere questi tre giocatori dalla stessa parte può essere un meccanismo che può essere lavorato e può diventare sempre più efficace. E un'altra cosa che secondo me è quella che fa preferire McKennie a Douglas Lewis è proprio la fase di pressing. Lui è molto disciplinato, ha questa resistenza anche a tante più corsa di Douglas e secondo me lo preferisce a questo, ecco, lo preferisce per questo. Qui la struttura è leggermente diversa, ci sono sempre due mediani, però loro costruivano a quattro. Vlaovic era, diciamo, addetto a entrambi i centrali, una volta copriva uno, una volta l'altro a base alla topalla. Comunque non cambia molto, la struttura è sempre quella. Vediamo Locatelli anche più in basso a Uomo e diciamo lui è più un giocatore che si occupa della fase bassa, ecco. Dipende se Napoli farà rotazioni, più che altro dove chi marca Locatelli poi. E fase di possesso, questa ho portato diciamo dove gioca Danilo e dove gioca Turam. Turam gioca al posto di Locatelli, ecco, come mediano difensivo delle responsabilità difensive. Invece Danilo l'abbiamo visto che lo preferisce come centrale al posto di Gatti. E quindi ecco, forse saranno quelli i ruoli che occuperanno tutta la stagione, mi viene da dire perché ormai il tempo diciamo è passato e Danilo sappiamo che non giocherà tanto. Turam secondo me è più una questione di magari gestione dell'infortunio magari non è ancora al massimo, non lo so, ma comunque ecco la struttura è sempre quella e diciamo che McKennie al posto di Douglas ha molto più inserimento invece Douglas è più un giocatore di palleggio quindi Douglas si può far trovare più spesso fra le linee oppure nella zona verde che ha indicato Jacopo lì Douglas può dare il suo meglio invece McKennie dà il suo meglio nell'inserimento Tiago Motta parlava del tempo per crossare la palla per riempire l'aria McKennie ha più quella caratteristica invece Douglas è più il giocatore che ti può fare l'imbucata o l'assist ecco ho concluso Jacopo alla luce di tutto questo un uomo partita allora io per la prima volta vorrei vorrei dire un uomo partita non tanto per la fase offensiva ma almeno due per la fase difensiva nel senso che visto il gioco del Napoli secondo me sarà importantissima la prestazione di chi andrà a prendere Lukaku presumo o Gatti o Bremer quindi uno dei due e di chi invece si posizionerà davanti a Lukaku nel tentativo di non fargli arrivare il pallone o comunque di andarlo ad aggredire nel momento in cui riceverà il pallone per questo io in realtà rispetto ad Ale preferirei più Turam in mezzo al campo e quindi dico loro due Gatti e Turam che mi diceva questo giro era proprio lì per esplodere sì 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 era lì con un bangolà che usciva dai Ale dai no no questo giro sono d'accordo con lui nel senso sarà una partita molto fisica piena di contrasti quindi Bremer e Gatti devono fare un lavoro per tenere Lukaku Lukaku è un giocatore che ha diciamo con gli anni è sempre meno esplosivo non è mai stato esplosivo diciamo la verità però intendo il movimento in profondità lo ha sempre di meno quindi sarà un giocatore sempre più statico e sono assolutamente d'accordo devono fare una grandissima partita Bremer-Gatti e Turam Lukatelli chi che sia e quindi io prevedo un gol di Gatti su angolo all'ottantesimo più o meno qui facciamo le carte ti giuro che se succede alla prossima ti chiedo i numeri siamo dalla scaramanzia alla cartomanzia vabbè dai ottantesimo ottantesimo sì anche quell'autogol di Koulibaly spettacolare mi andrebbe bene tutto però il patino gioca quello dovresti dare per certo lo sostituiamo con Ramani io vi dico i miei due nomi Cambiaso secondo me sarà un giocatore fondamentale in questa partita e non lo so la sensazione che Blaovic possa switchare in questa gara sarebbe un bel segnale perché è un big match in cui poi i giocatori più attesi alla fine devono far propria l'occasione e quindi secondo me Blaovic potrebbe essere l'uomo partita di questo Juve Napoli ci sta ci sta benissimo anche perché Blaovic come diceva Ale è stato servito poco in queste prime partite e quando è stato servito non è stato in grado di essere così bravo da sfruttare quelle poche occasioni che ha avuto quindi anche per lui sarebbe importante sbloccarsi da quel punto di vista ragazzi grazie come sempre Alessio Tenan Jacopo Gornati pretattica con tantissimi contenuti nel corso della settimana il giorno partita ci ritroviamo qui e proviamo a fare le carte oltre che insomma tutte le analisi del caso davvero grazie ragazzi un abbraccio grazie a te Giovanni ciao ciao ciao